Lo studio Bioetaly era uno studio finalizzato allo studio di biobarcatori sierici circolanti, e non solo, in un contesto di pazienti trattate con la combinazione di elettrozolo e ribocicli, in prima linea in pazienti in postmenopausa con malattia IR positive e IR to negative. Una peculiarità di questo studio è che è il frutto di una collaborazione tutta tra investigatori italiani ed è uno studio sponsorizzato e promosso da Novartis. In questo studio sono stati valutati diversi biobarcatori sierici. A San Antonio è stata apportata l'analisi relativa alla valutazione del circulating tumor DNA valutato al baseline, dopo 15 giorni, quindi durante il primo ciclo, al giorno 1 del ciclo 2 e al post imaging. Il numero complessivo di pazienti valutabili per questa analisi di biomarcatori è di 263, quindi più del 90% della popolazione complessivamente arruolata nello studio. Per quanto riguarda il metodo che è stato utilizzato, è stato utilizzato un sistema che consente tramite sequencing una valutazione di specifici ampliconi arricchiti in mutazioni di geni, in particolare 39 geni breast cancer specifici. Come risultati principali abbiamo che una valutazione e la presenza di una target mutation al baseline si associa a un maggior rischio di progressione rispetto all'assenza di mutazioni target identificabili al baseline, questo è in linea con altri dati simili di letteratura e un'altra peculiarità è che all'incirca il 40% della popolazione aveva un'alterazione target documentabile. Per quanto riguarda l'analisi ai tempi successivi, noi abbiamo dimostrato una importante dinamica sotto trattamento del ctDNA, al dei 15 c'è circa un 50% di pazienti che ha una clearance completa della mutazione, quindi una mutazione identificabile al baseline viene a scomparire e una proporzione simile si osserva al dei 1 ciclo 2. Bene, sia al dei 15 che al ciclo 1 dei 2, l'assenza di mutazioni detectabili partendo da sottogruppo che aveva una mutazione detectabile al baseline si associa a un minor rischio di progressione. Questo chiaramente indica che questa clearance del ctDNA ha un valore predittivo in quanto identifica una prognosi differente all'interno di un sottogruppo che abbiamo detto ha globalmente una peggiore prognosi quando grazie al trattamento si ottiene una scomparsa completa di questa mutazione. Un'altra analisi che è stata fatta è stata quella di andare a vedere nei pazienti che non hanno un'alterazione diagnosticabile al baseline molecolare se la comparsa di una mutazione ai tempi successivi si associava a una differente prognosi clinica. Questo è stato osservato dimostrando come anche la comparsa di alterazioni molecolari in pazienti che non hanno questa alterazione al baseline anticipa probabilmente l'evento di progressione che poi è clinicamente dimostrabile. Infine abbiamo visto che combinare la valutazione ctDNA al baseline prima del trattamento e al giorno 15 quindi la clearance da scomparsa del DNA del circulating tumor DNA fornisce più informazioni prognostiche che entrambe le analisi singolarmente. In sintesi lo studio BITALI dimostra le grandi potenzialità di questa metodica quella della valutazione del circulating tumor DNA non solo nelle pazienti trattate con ribocci per elettrozolo come è avvenuto nello studio ma probabilmente nel contesto della malattia avanzata. Questa è una dimostrazione di clinical validity del biomarker ovviamente rimane da dimostrare la sua clinical utility nel contesto clinico e sicuramente è anche uno studio di cui devono essere orgogliosi tutti i ricercatori italiani per quanto riguarda un risultato di prestigio e che sicuramente ha contribuito a definire l'outcome di successivi trial clinici della possibile implementazione nella pratica clinica di una metodica che risulta estremamente promettente.